Hanno detto che si trova al miscelatore centrale. Sai cosa significa? Si prepara a rilasciare la tossina. Ho visto cosa fa quella roba alle persone. Se il gas finisce là fuori, sarà il caos! Non permetterò che accada. Ti tirerò fuori, vai all'ascensore. Jim, il secondo laboratore è a posto. Vengo da te. E lo spaventapasseri? È al miscelatore centrale. Appena i tecnici saranno in salvo, vado a prenderlo. Lì è l'inferno che penso. Peggio, Jim. Ma lo fermerò. Hai la mia parola. A presto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' uscita ed è andata! Come hai fatto a scendere qui sotto se l'ascensore non funziona? Devo trovare il modo di far salire l'ascensore. Non è possibile far salire l'ascensore da qui dentro. Devo trovare il modo di farlo da fuori. Devo trovare il modo di far salire l'ascensore. Non è possibile far salire l'ascensore da qui dentro. Devo trovare il modo di farlo da fuori. Non è possibile far salire l'ascensore. Non è possibile far salire l'ascensore? Non è possibile far salire l'ascensore. Non è possibile far salire l'ascensore? Non è possibile far salire l'ascensore? Non è possibile far salire l'ascensore? Non è possibile far salire l'ascensore.